Ciao ragazzi e bentornati qui sul canale YouTube. Io sono Alessandro e da oltre 14 anni mi occupo di fitness, personal trainer e allenamento funzionale. Oggi insieme vediamo l'esecuzione corretta dell'inchworm, un esercizio funzionale molto utile negli allenamenti che io metto sempre qui nel Spartan Workout, nei nostri lavori a circuito. Vediamo l'esecuzione corretta, le varianti più facili e anche le varianti più difficili. Intanto questo è un esercizio che io uso spesso quando lavoro con i miei clienti personal trainer, quando il cliente deve dimagrire, quindi deve scendere di peso. Lo uso anche per le donne ma anche per gli uomini quando dobbiamo potenziare la parte superiore. Quindi l'inchworm, partiamo prima di tutto, è un esercizio completo che ci fa bruciare tante calorie. Lavora sia l'addome, lavorano i femorali, le gambe nella fase di discesa ma anche nella fase di salita e per la parte superiore è molto completo. L'inchworm si può fare in varie varianti, ma prima di spiegarvi tutte le varianti, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a lasciare un like su questa pagina di allenamento funzionale, così potete sempre essere aggiornati sui nuovi workout dove vi spiego i movimenti ma anche sulle lezioni, quelle belle toste che andiamo a fare noi. Allora, partiamo con l'inchworm, con la versione base, versione base, gambe divaricate, altezza più o meno delle spalle, quindi non partite con le gambe strette così. Facciamo l'inchworm con le gambe divaricate, da qui andiamo ad appoggiare la prima mano, la mano destra o la sinistra come preferite, vicino alla punta del piede, quindi non partite con la mano lontanissima per non andare a sforzare la schiena ma anche per incominciare già a lavorare il tricipite. Da qui mano destra, mano sinistra, destra, sinistra, destra. Allora, così è un mezzo inchworm, cercate di mantenere il sederino alto, ok? Per farlo completo dobbiamo scendere con la pancia a terra in questa posizione e da qui andiamo a risalire su, ok? Adesso ve lo rifaccio vedere. Prima eseguirò un inchworm completo con la pancia a terra. Quello completo di inchworm è un movimento che faccio svolgere di solito a delle persone abbastanza allenate quando faccio le personal trainer, quindi non è un movimento che possiamo far fare a una persona che ha appena incominciato. Quando avete appena incominciato, sempre in mezzo inchworm, così uno deve partire sempre in maniera graduale, ragazzi, per non farsi male per gli infortuni che sono la cosa più importante. Quindi, gambe divaricate, scendo, 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 giù, pancia a terra e ritorno su, petto in fuori. Quindi, questo è l'inchworm completo. Quello mezzo, mezzo movimento è questo, scendo, 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 glutei alti e ritorno su, ok? Non fate l'inchworm iperestendendo la schiena, quindi scendo, 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 scendo e iperestendo, perché andiamo a schiacciare le vertebre e questo non deve essere assolutamente fatto perché sennò dopo rischiamo di farci male con il tempo, perché magari sbagliando un'esecuzione la possiamo sbagliare per una volta, due volte, tre volte, ma se la sbagliamo per un anno, lì ci andiamo a schiacciare le vertebre. Quindi, non fate questo errore, pa, 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 boom, iperestendo e ritorno su. No, ragazzi, questo è un errore assolutamente da controllare quando facciamo l'inchworm. Ora, vediamo un po' di varianti di questo esercizio. Le varianti sono sempre un pochino più difficili, quindi serve una persona sempre esperta. Quindi, questo movimento lo potete fare a casa, in vacanza o in palestra, ovunque, perché è un esercizio a corpo libero. Gambe divaricate, vediamo la prima variante. La prima variante è one foot inchworm. Quindi, tirate su il piede. Adesso abbiamo tutto il peso del corpo, quindi abbiamo meno equilibrio su un piede solo. Da lì andiamo giù a terra, poggio la pancia e ritorno su, ok? Da qui, cambio del piede. Certo, avere tutto il peso del corpo su un piede e sulle spalle e sul tricipite serve una persona abbastanza allenata. Quindi, ragazzi, non è adatto a tutti questo movimento. Adesso ve lo faccio vedere velocemente. Quindi, vai, go, scendo, 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 giù. Vengo su, respiro, cambio il piede e vai, 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 vai. Torno su. Questo è un inchworm one foot. Quindi, ottimo per chi è allenato. Possiamo anche farlo mezzo, ok? Ma io non lo consiglio a chi ha appena iniziato con i workout. Lo consiglio sempre agli esperti. Prossima variante. Facciamo un inchworm, mezzo inchworm. E poi andiamo a toccare il ginocchio, prima il sinistro e poi il destro. Toccando il ginocchio sinistro e destro, oltre a lavorare l'equilibrio, andiamo a fare una piccola contrazione addominale. Quindi va a lavorare anche il core. In tutti questi esercizi a corpo libero, lavora sempre anche l'addome. Quindi, gambe divaricate e scendo, 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 scendo. Da qui posso fare uno e due. E ritorno su. Non è semplice farlo se non lo allenate, perché quando staccate una mano andate poco a poco a perdere l'equilibrio. Questo movimento dove ho levato il ginocchio lo potete fare anche toccando il piede. È un'ottima variante, è divertente, che vi fa bruciare un sacco di calorie. Quindi, gambe divaricate e go, 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 go. E hop, hop, su. Questa l'ho fatta col piede e adesso col ginocchio. Go, 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 go. E uno, e due, su. Quindi queste due varianti, una col piede, una col ginocchio che potete mettere nei workout. La cosa bella dell'inchworm, ragazzi, di questo movimento, è quella che lo possiamo unire a tanti esercizi funzionali. Quindi magari possiamo andare a fare un inchworm completo o mezzo inchworm. Scendo, 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 pancia a terra. Vengo su. Da qui ci posso mettere uno squat jump. Quindi squat jump e riscendo. Go. E su. E vai, sali. E ritorno in squat. Quindi magari se vi fate un tabba da 20 secondi di lavoro con 10 secondi di recupero per 8 round di inchworm più squat jump, state lavorando tutto il corpo. Che significa? State facendo un movimento multiarticolare. Lavorano più articolazioni, lavorano le gambe, gli addominali. E tutto, le spalle, il tricipite. Quindi se volete tonificare e bruciare tante calorie, l'inchworm insieme allo squat jump è ottimo. Sopra, upper body, lower body. Ok? Quindi ottimo. L'inchworm lo possiamo legare anche agli affondi. Quindi andiamo a fare. Giù, inchworm. Pa. Su in piedi. Vai a fondo. A fondo saltato. O a fondo indietro anche. Quindi go, 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 go. E su. Tac. Indietro. Oh. Si presta benissimo per unirlo ai movimenti di funzionale. Quindi lo possiamo legare allo squat jump. A un affondo. È un ottimo allaccio. Ok? Un ottimo esercizio dove possiamo lavorare la resistenza, ma anche la forza. Perché la resistenza, ragazzi, è una forza che si protrae nel tempo. Quindi una persona resistente è anche forte. Ok? Allora. Adesso guardate. Guardate bene. Gambe divaricate. Adesso un'altra variante. Piuttosta. Possiamo fare un inchworm e poi legarci quattro piegamenti. Quindi. Scendo. Go, 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 go. E via. E. 3 e 4. E ritorno su. E respiro. E riparto. E magari adesso ce ne leggo 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E ritorno su. E magari faccio un piramidale. Che significa un piramidale? Potete partire con questo movimento di inchworm. Scendi giù. Ne fai uno. Risali su. Due piegamenti. Sali su. Tre piegamenti. Sali su. Fino ad arrivare magari a 10. A 20. Questo può essere un ottimo lavoro. Quindi leghi il push up. E il movimento di inchworm. Che lavora tutta la parte superiore. Quindi anche questa può essere una variante pazzesca ragazzi. Io metto sempre. Questo è un esercizio che a me piace tantissimo. Lo metto sempre e lo faccio fare sempre. Infatti nei miei workout lo trovate continuamente. Allora un'altra variante. Immaginate che qua c'è un tappetino. Come c'è il bar piece over. Cioè bar piece e salto il tappetino. E faccio il salto lo posso fare con l'inchworm. Quindi go. Scendo giù. Pancia a terra. Torno su. Da qui. Salto laterale. E riparto. Go 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 go. E giù. Ok? Quest'altra può essere una variante col salto laterale. Ma ci possiamo anche mettere uno squat jump lateral. Quindi ottimo ottimo esercizio. Ragazzi. Questo è l'inchworm. Ci sono tantissimi istruttori. E anche altre correnti di pensiero. Che lo fanno magari in altre maniere. Camminando e andando avanti. Ma per me questa è la migliore. L'ho usata e la faccio usare da sempre. Quindi vi consiglio di farla. Come lo faccio io con la stessa impostazione. Andate a fare gli esercizi sempre in maniera corretta. Perché è importante. E niente ragazzi. Se volete essere eseguiti da me. In maniera personalizzata. Quindi non vi piace l'istruttore che vi allena. O non vi sentite eseguiti. Vi inventate un po' i workout da soli. Io ho un servizio di coach online. Dove vi programmo le schede. Completamente personalizzate. Per raggiungere i vostri obiettivi. Quindi se ti alleni a casa. Se ti alleni in palestra. Ovunque ti alleni. Il coach vi prepara delle schede. In maniera tale che raggiungete gli obiettivi. Il più velocemente possibile. Ma come faccio a farvi trasformare ragazzi. Perché poi mi dovete mandare le vostre fotografie. Una frontale. Una laterale. Una di schiena. Le attrezzature che avete a casa. O in palestra. E da lì vi faccio la programmazione. E andiamo a trasformarci in poco tempo. In vista dell'estate. Spero che questo video vi è piaciuto. Aggiungimi sul mio profilo Instagram. Sportsifedelife. E mi trovi anche sulle varie piattaforme social. Sono su tutte le piattaforme. Noi ci vediamo nel prossimo workout. Lo sport ci salva la vita ragazzi. E ce la migliora. Quindi spero che questo video. Con la spiegazione dell'inchworm. E le varianti. Vi è piaciuto. Noi ci vediamo presto. Con una nuova lezione di allenamento funzionale. Alla prossima. Let's go.